E vince la 30 e cinquesta Corsa Longa San Giovannese in 30 minuti e 51. Va al maruchino Yusuf Aish, l'edizione numero 35 della Corsa Longa San Giovannese. Sul traguardo di via Teodoro Gaza, il portacolori dell'ASD polistica e il laghetto triomfa in 30 minuti e 51 secondi, staccando di 43 secondi Giglio Iannone, che per oltre metà gara è riuscito a tenere testa al ritmo imposto dal magrebino. Terza piazza per il vincitore del 2016 Gennaro Varrella a 1 minuto e 26 secondi. Mano nella mano all'arrivo le due sorelle Palomba dell'Astro 200 Benevento. A vincere è Filomena con 42 minuti e 34 secondi su Francesca. Gradino più basso del podio invece per Marzia Croccia della polistica San Giovanni Appiro Golfo di Policastro a 1 minuto e 40 secondi. Ancora un successo per la Camaldolese nella classifica squadre su 3C Cilento Running Academy e polistica San Giovanni Appiro. Nessun record è stato battuto. Il trofeo Nicola Paradiso per il primo San Giovannese va ancora una volta ad Alessio Sorrentino della polistica San Giovanni Appiro, mentre il trofeo Sorriso Monica Magliano è a pannaggio di Maria Marotta. Dopo quattro tappe in testa alle graduatorie maschile, femminile e team del circuito restano Camela Lag dell'idea atletica Aurora Battipaglia, Daniela Capo dell'Angropoli Running e la Camaldolese. Grazie.